leo e il pick up di halloween guardate una zucca enorme non sembra anche a voi che il robot rosso sia un artista scultore all'opera sembra dare dei tocchi magici siamo curiosi di vedere cosa sta facendo ciao artista ci mostri l'opera una bellissima zucca intagliata per la festa di halloween è pesante ma è molto bella ne hai già fatte altre sì per uno scherzetto ops ancora una ma limiti è un carico eccessivo che guaio come facciamo a trasportarle per lo scherzetto sono tante e pesanti ciao leo hai una soluzione che veicolo propone di assemblare vediamo telaio nero cabina rossa con interni gialli e grigi due sportelli rossi con interno giallo quattro ruote con cerchi gialli griglia verde e fari bianchi e gialli wow e questo è il cassone rosso con bordi gialli ma è un bellissimo pick up per portare le zucche quattro parafanghi rossi e due paraurti gialli il pick up è pronto mettiamo le zucche nel cassone una due tre quattro e cinque andiamo oh no ancora c'è qualcosa che non va già il portellone posteriore leo andiamo a cercarlo quello con il vetro è bello non fa al caso nostro e questo blu no giusto sì questo al centro prendiamolo leo il portellone con la maniglia va al suo posto e il pick up porta le zucche davanti a casa di scoop per uno scherzetto scarichiamo le zucche senza fare rumore ti abbiamo spaventato è halloween festeggiamo insieme ciao buon divertimento a tutti ciao 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 ciao